bombe d'acqua allagamenti e frane continua l'allerta meteo discarica di riceci la versione di paolini fiume foglia max intervento per rimuovere i detriti caritas e psichiatri gratuiti contro le situazioni di disagio vl scocca l'ora dei playoff con milano una buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv e ben ritrovati al nostro telegiornale ben ritrovati a rossini news il tg delle canale 80 che in questa edizione di venerdì 12 maggio apriamo con le immagini relative all'allerta maltempo sulla nostra provincia al secondo giorno trascorso con improvvisi temporali acquazzoni grandinate e allagamenti come ci testimoniano anche alcuni video e foto segnalatici da voi telespettatori che ringraziamo a pesaro ci sono stati allagamenti in via cavur via mameli via campo sportivo il sottopasso dei cappuccini il sottopasso di via vincenzo rossi a pantano in via madonna di loreto in zona calcinari verifiche in corso anche in via lago trasimeno e in via passeri all'aggiornamento di un'ora fa non risultavano danni a persone ma resta alta l'allerta di vigili del fuoco e vigili urbani vi stiamo mostrando immagini inusuali e per certi versi anche impressionanti che ci arrivano dal centro storico di pesaro ma anche dai quartieri come da santa veneranda e da via fratti non solo pesaro le immagini inviatici da daniele nostro telespettatore che ringraziamo vengono da tavernelle dove c'è stata una frana nella strada in direzione sterpeti e ponte degli alberi una situazione complicata che fa seguito agli allagamenti di ieri a villa ciccolini ponte valle e mombaroccio ringraziamo tutti i telespettatori che ci hanno inviato immagini al 370 366 7210 continueremo a tenervi aggiornati nei nostri prossimi spazi informativi e canali social lasciamo l'argomento maltempo e torniamo invece sull'argomento della discarica che si intende costruire a riceci nel territorio comunale di petriano ieri c'è stato il sopralluogo del deputato borrelli che ha depositato una interrogazione parlamentare per fare luce su questo caso oggi invece si è espresso sull'argomento anche il presidente della provincia giuseppe paolini intervistato ai nostri microfoni una discarica in quello che uno dei posti più belli delle marche ma secondo me anche più belli dell'italia è una situazione assurda è un video messaggio disdegno quello che francesco emilio borrelli posta dalla collina di riceci destinata a diventare maxi di scarica il deputato di alleanza verde e sinistra effettuato ieri il sopralluogo nella collina di petriano sulla quale è stata avviata un'interrogazione parlamentare volta a fare trasparenza sull'iter procedurale che assegnerebbe la realizzazione dell'impianto di smaltimento di rifiuti ad aurora srl società col 60 per cento di quote della san marinese ecosistemi e il 40 per cento di marche multi servizi un sopralluogo sostenuto dall'ex consigliere regionale gianluca carraps da comitati e da comunità petrianesi che reputano quanto mai sbagliato trasformare in discarica lo stesso luogo che nel 2009 fu scelto come spot promozionale per le marche con l'attore hollywoodiano dustin hoffmann abbiate il coraggio di chiamare dustin hoffmann fate fare la promozione delle marche sulla discarica perché dobbiamo avere pure il coraggio di essere coerenti se noi riteniamo che da sinofano ha venduto un pacco al mondo e agli italiani facendo un giro su un posto brutto che voi ritenete di dover trasformare la discarica dovete avere il coraggio di cambiare quello spot oggi il caso riceci è stato affrontato anche da uno degli amministratori spesso tirato in ballo nella vicenda giuseppe paolini presidente della provincia ospite negli studi di rossini tv per l'approfondimento nel format amministrando la discarica di riceci io sono stato tirato in ballo tante volte a torto sotto certi aspetti e oggi ne approfitto per dire per dire quello quello che ne penso io c'è una normativa regionale che dice che le discariche di rifiuti speciali non pericolosi debbono stare a 2000 metri dai centri abitati su quella cosa io vado avanti su quella normativa la provincia sta andando avanti dopo di che noi dobbiamo dare un'autorizzazione un'autorizzazione che però deve essere validata dalla regione e io dico i 2000 metri non ci sono la discarica secondo me il parere che darà la provincia sarà un parere negativo a meno che in regione non cambino e abbassino questo percorso personalmente cosa ne penso personalmente penso che il luogo è sbagliato personalmente penso che ci siano una serie di problemi che andavano affrontati anche con la gente del posto ma io ho la certezza di dirti che noi ce lo siamo ritrovati in provincia questo progetto ce lo siamo con persone che si erano mosso in anticipo con persone che siano moci in anticipo ed è la tipica situazione in cui molti lanciano il sasso e poi nascondono la mano e quanto cade il sasso i cerchi si allargano e tu devi cercare di fermare questi cerchi e fare in modo che l'acqua ritorni ritorni chietta io non non uscirò dicendo una cosa o l'altra allora io dico la provincia agirà nel massimo rigore e nel massimo rispetto delle leggi però se lì è arrivata una società di san marino vuol dire che qualcuno ce l'ha portato meteo permettendo la prossima settimana si interverrà su un problema che al fiume foglia si ripete ogni anno quello dell'accumulo dei detriti alla foce che ostruisce l'imboccatura ai diportisti una criticità che ora vede un importante investimento della regione marche alla ricerca di una soluzione duratura meteo permettendo la prossima settimana un imponente chiatta arriverà alla foce del foglia per caricarsi dei detriti che puntualmente si depositano all'imboccatura del fiume abbassando nel pescaggio e ostruendo la navigazione di un migliaio di diportisti un lavoro finanziato dalla regione marche che metterà a disposizione l'utilizzo di un motopontone per liberare la sponda dai detriti creando un beneficio più duraturo rispetto ai precedenti interventi percorso sicuramente lungo complesso però questo era un problema annoso che cercavo di risolvere dal sin dei primi mesi dell'insediamento in regione ho cercato i soldi poi siamo riusciti anche tramite un ottimo lavoro da parte del genio civile di pesaro devo ringraziarli a fare questo questo progetto questo lavoro radicale almeno per un po di anni sicuramente si starà sicuramente bene è un lavoro che va a inserirsi e a dare del beneficio a tantissimi diportisti natanti del del porto di pesaro quindi sono veramente molto contento adesso entro qualche giorno sicuramente il lavoro inizierà e vedremo sicuramente i benefici di un progetto molto importante da parte della regione marche la chiatta motopontone che preleverà la ghiaia sarà posta sulla sponda sinistra del fiume e preleverà circa 4 mila metri cubi di detriti che saranno trasportati via camion fino a un deposito temporaneo in via paganini il cantiere durerà 15 giorni per un investimento di 140 mila euro una sifra importante anni passati si riusciva a operare solamente con qualche migliaio di euro si facevano delle operazioni veramente poco risolutive anche perché il materiale veniva riposizionato lì e tornava nuovamente in mare quindi sono certo che tantissimi diportisti saranno molto contenti di questa di questa situazione benvenga cerchiamo di fare di trovare cose utili per la città di pesaro si chiama gerico il nuovo progetto di caritas e azienda sanitaria territoriale che metterà il servizio gratuito di alcuni psichiatri a disposizione dei più fragili della comunità la caritas di pesaro si dimostra non solo attenta alle povertà emergenti ma anche alle fragilità psichiche ad esso correlate va in questo senso il progetto gerico che di concerto con l'impegno dell'azienda sanitaria territoriale metterà a disposizione gratuita tre psichiatri professionisti a servizio della collettività soprattutto di quella che non può permettersi un tale servizio sanitario è a favore delle persone che hanno problemi di salute mentale e ci sono due gruppi un gruppo che praticamente sono le persone che per problemi documentali non possono accedere così facilmente al sistema sanitario nazionale quindi regionale e quindi vengono presi in carico da un pool di psichiatri medici volontari che nel orientano fanno l'anamnesi in caso di necessità prendono in carico alla persona dall'altra parte però possono accedere tutti i cittadini per orientamento per cercare di verificare se ci sono veramente problemi di salute mentale oppure no e in quel caso i medici psichiatri volontari indirizzano verso il sistema pubblico abbiamo pensato di coinvolgere tutta la comunità le istituzioni e le persone che hanno voluto dare la disponibilità per questo progetto abbiamo ricevuto una risposta eccezionale perché i servizi sanitari sociali e anche dei professionisti hanno scelto di aderire a questa iniziativa proprio perché è sentita come una delle questioni importanti nella cura della fragilità delle persone credo che la pandemia ci abbia insegnato tante cose tra queste ci ha insegnato che nessuno si salva più da solo o tutti insieme o niente quindi dare una parte del nostro tempo per fare qualcosa che aiuti anche gli altri è fondamentali. Ho sempre pensato che il servizio pubblico e il terzo settore condividessero una missione e andata in pensione ho pensato che avrei voluto continuare questa esperienza all'interno del terzo settore. La situazione delle marginazioni della marginalità in questi anni è cambiato tantissimo e allora bisogna che noi prima di tutto gli enti locali la sanità e tutto siamo capaci di intercettare questo nuovo malessere. Per fare questo dobbiamo avere come compagni di viaggio chi è più flessibile e attento ai temi della strada come in questo caso la Fondazione Caritas. Dal sostegno ai più fragili alla inclusività ai portatori di disabilità va in questo senso la realizzazione dei libri tattili da parte della biblioteca Louis Braille di Baia Flaminia. Libri tattili per tutti. Questa è l'idea inclusiva che ha spinto la biblioteca Braille di Baia Flaminia a intraprendere questa avventura. Una serie editoriale composta da decine di libri illustrati in stoffa e realizzati artigianalmente grazie anche al coinvolgimento del liceo artistico Mengaroni. Da sempre frequentiamo le biblioteche, frequentiamo la biblioteca Braille e quando la biblioteca Braille ha vinto il bando ci è stato chiesto di poterci inserire con appunto la creatività dei nostri studenti abbiamo aderito in maniera entusiasta. Già avevamo fatto dei percorsi di illustrazione tattile proprio per, come dicevo prima, per affrontare il discorso della diversità ma come potenzialità perché secondo me una illustrazione che da bidimensionale diventa tridimensionale e appunto raggiunge il massimo della sua espressione perché i cinque sensi devono essere attivi praticamente nello stesso momento quindi è fantastico. I libri tattili che siamo andati a creare, che erano il cuore di questo progetto, sono arricchiti da un QR code posto sul colifon che permette ai genitori o ai bambini che utilizzano questi libri di poter anche ascoltare e quindi musiche, la lettura ad alta voce attraverso le nuove tecnologie quindi per poter essere sempre e maggiormente inclusivi. Purtroppo sono libri costosi e preziosi proprio per il tanto lavoro che c'è dietro ed è un lavoro artigianale quindi la richiesta diciamo non è soddisfa, la produzione non soddisfa la richiesta del mercato. Il progetto è iniziato l'anno scorso grazie alla collaborazione, io la chiamo Ninna perché le voglio un grande bene e perché veramente ha offerto al liceo artistico Mengaroni un'opportunità preziosissima quindi la classe terza C che l'anno scorso ha iniziato a lavorare attualmente è quarta C perché è un progetto che ha avuto una durata biennale. Mi batte forte il cuore e veramente per noi è stata un'esperienza molto bella ed emozionante. Abbiamo sperimentato materiali diversi, linguaggi diversi, linguaggi inclusivi. Per far conoscere meglio il mondo dei non vedenti agli studenti c'è stato un percorso, c'è stata una ricerca dietro. Sì perché il mondo dei non vedenti è difficile capirlo quindi ai ragazzi abbiamo proposto un iter di formazione con un tifologo e i ragazzi hanno fatto degli esercizi a scuola con le bende agli occhi e in cui si lanciavano, si davano in mano dei materiali e i ragazzi dovevano riconoscerlo. I materiali man mano sono stati scelti dai ragazzi quindi anche questo è stata una ricerca lunga perché essendo rivolti ai non vedenti prima di tutto il materiale deve essere capito, il materiale e le forme devono dare l'idea di quell'oggetto oppure devono servire a conoscerlo quell'oggetto e per un non vedente questa è la prima cosa. Sono veramente libri da 0 a 99 anni, io stessa ho potuto verificare in compagnia della mia mamma malata e con varie problematiche che lei si divertiva a leggerli nella maniera giusta, li toccava e provava emozioni e sorrideva e sorrideva quando il materiale era veramente morbido ed era accogliente ed era confortante e lei mi diceva bello. I luoghi più belli prodotti tipici della provincia di Pesaro Urbino stampati sulle bustine di zucchero e distribuite in bar e ristoranti e questa è la nuova iniziativa di Confcommercio Marche Nord e alberghi consorziati rivolta a promuovere i territori che aderiscono all'itinerario della bellezza. Scoprire la palla di pomodoro sorseggiando un caffè ma anche l'arco da gusto di Fano, la gola del furlo e tante altre bellezze del territorio. Basta far caso alla bustina di zucchero perché da oggi c'è una novità. 12 location della provincia di Pesaro Urbino insieme a 4 prodotti tipici sono infatti finite sulle confezioni dei dolcificanti che possiamo trovare nei bar e nei ristoranti. Merito della nuova iniziativa di Confcommercio Marche Nord e alberghi consorziati che in sinergia con l'azienda Personal Zucchero hanno dato vita a un semplice ma efficace progetto di promozione del territorio dal titolo prodotti d'eccellenza. Chiaramente lo zucchero nel Cinquecento era una merce rara quindi logicamente era considerata rara e costosa mentre il giorno d'oggi è il prodotto più diffuso. Questo fa capire che questo è un prodotto promozionale importantissimo proprio perché chi è che non si trova mai a guardare una bustina di zucchero, quello che c'è scritto, il logo e questo crea nelle persone comunque un ricordo, una sensazione che può essere un borgo, un buon cibo, un buon vino e quindi questo è fondamentale proprio per riuscire a promuovere il nostro territorio, le nostre bellezze per creare comunque nel turista quel ricordo che possa fare in modo di portare da noi di nuovo il turista e proprio esprimerlo poi anche con altre persone. Quindi credo che sia un prodotto promozionale e di marketing con un rapporto qualità prezzo fondamentale e da lì che nasce la collaborazione perché è un qualcosa su cui tu vai a investire ma che poi a livello di costi non è altissimo e ti può portare invece tantissimo dal punto di vista economico e turistico. dal teatro Rossini alla pizza che porta lo stesso nome, dalla Moretta di Fano alla piazza della stessa città passando per il suo carnevale, ma anche per Fossombrone, Fermignano e per i tanti altri comuni che fanno parte dell'itinerario della bellezza di Confcommercio Marche Nord. D'ora in poi sulle bustine dello zucchero troveremo tutto questo e molto altro ancora grazie a un'idea che parte da lontano. Questa idea è nata che io avevo una gelatteria e pensavo di personalizzare le mie bustine di zucchero ma non si trovavano sul mercato, non c'era nessuno che lo faceva. Allora ho pensato a questa idea di produrle io. Nell'anno 88 ho aperto questa azienda con un socio e ci siamo messi a produrre le bustine. Noi non vendiamo zucchero, noi vendiamo l'immagine sulle bustine di zucchero. Quindi diamo la possibilità ai bar, ristoranti, alle piccole attività, persino agli eventi di avere queste bustine di zucchero. Noi collaboriamo perché vogliamo vendere un'immagine, non vogliamo vendere tanto lo zucchero ma proprio un'immagine di un territorio ed è quello che noi facciamo con gli itinerari della bellezza. Quindi siamo arrivati a 21 comuni, quindi metà della provincia e speriamo di andare avanti e creare ancora di più questa collaborazione. Chi ha saputo magari che non è all'interno vorrebbe aderire anche chi non è all'interno del territorio della bellezza. Quindi noi speriamo vivamente che ci saranno ancora più comuni che aderiranno poi a questo progetto. ed ora ci occupiamo di sanità perché si parla tanto del problema della mobilità passiva ma intanto le strutture ospedaliere di Fano e di Urbino registrano il 25% di mobilità attiva da fuori regione nel 2022 appena trascorso con oltre 1100 interventi di chirurgia senologica. L'unità operativa complessa Senologia Breast Unit della ST di Pesaro Urbino resta infatti un'eccellenza della sanità marchigiana che ogni anno continua a registrare numeri importanti per la presa in carico dei pazienti riguardo a diverse patologie legate al seno su tutte la chirurgia oncoplastica della mammella. Cambiamo argomento. Fervono i preparativi per l'arrivo del Giro d'Italia domani con la tappa Terni-Fossombrone che rappresenterà l'unico transito della Corsa Rosa nella nostra regione. L'arrivo della carovana è previsto nel territorio provinciale attorno alle 14.40 a Cantiano con arrivo a Fossombrone attorno alle 17.00. Città d'arrivo vestita con le attività commerciali che in questi giorni si presentano già agghindate di rosa attraverso l'iniziativa che vi stiamo mostrando, Vetrine in Rosa di Confcommercio. E invece questa mattina a Roma c'è stata la cerimonia di consegna delle bagniere blu il riconoscimento della FE, fondazione per l'educazione ambientale che certifica la pulizia del mare e delle spiagge e la gestione sostenibile del territorio. Nelle Marche salgono a 18 le bandiere blu con la giunta di Porto San Giorgio e la provincia di Pesaro Urbino mantiene altissima la qualità in tutti i suoi comuni costieri. Trentesima bandiera blu per Gabicce Mare, diciannovesima per Pesaro, Fano e Marotta. E parliamo anche di teatro, in particolare di teatro dialettale. Torna infatti in scena l'attrice regina del vernacolo pesarese Franca Mercantini che con la sua compagnia Il Faro sarà questo weekend sul palcoscenico del teatro sperimentale con la commedia Chica Pesci e Matt. L'appuntamento è per sabato 13 maggio alle 21 e domenica 14 maggio alle ore 17. Una sarabanda di personaggi che sopravvivono al logorio della vita moderna. E questo il tema narrato da La Joie de Vivre, progetto interamente realizzato dagli allievi della Scuola di Scenografia dell'Accademia di Belle Arti di Urbino che andrà in scena lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 maggio con doppio spettacolo alle 20 e alle 21 e 30 nella chiesa di San Filippo di Fossombrone. Lo spettacolo con drammaturgia di Caterina Ridi è inserito nelle cartellone di Teatroltre di Amat. Martedì 16 maggio alle ore 21 e 15 a Villa Guerini di Muraglia si terrà la presentazione di un nuovo romanzo che ha già conquistato decine di lettori. Si tratta della Solitudine delle Mare, un romanzo narrativo a sfondo filosofico che segna l'esordio dell'autore Giulian Sozio. Paolo Pagnini, giornalista volto noto di Rossini TV, guiderà il pubblico attraverso i racconti dell'autore, le letture interpretate da Alessandra Giardina e la proiezione di immagini e riproduzione di melodie citate nella storia alla scoperta del mondo nel quale vivono i protagonisti del romanzo. E concludiamo con lo sport. Ne abbiamo ampiamente parlato questa settimana. Domani alle 18 a Milano scattano i playoff della VL con gara 1 dei quarti di finale. Un argomento che è stato anche ampiamente trattato ieri sera nell'ultima seguitissima puntata di Insieme a Canestro in questa seconda stagione del format di Rossini TV davvero seguito per tutta l'intera stagione da tanti voi telespettatori che ringraziamo. Una puntata particolarmente interessante perché c'è stato come ospite coach Yasmin Repeja che nel salotto di Marco Cadetto ha anche tracciato una linea molto interessante sul futuro che deve intraprendere la VL. Si è conclusa la regular season della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro con la conquista dell'ottavo posto e i quarti di finale playoff con Milano che scattano sabato 13 maggio con gara 1 al Mediolanum Forum. Si è conclusa pure la seconda stagione del format di Rossini TV insieme a Canestro che per la sua ultima puntata ha ospitato giovedì sera coach Yasmin Repeja. L'allenatore croato pungolato da Marco Cadetto e dalle domande dei tifosi ha rinviato ogni discorso sul suo futuro a dopo i playoff sui quali si è concentrati anima e corpo per tentare l'impresa. Vi posso promettere dopo playoff venire di nuovo e parlare di futuro ma adesso dobbiamo stare tutti concentrati per fare il meglio possibile questa serie perché le parole come ho detto dopo la partita non c'è nulla da perdere perché budget non è paragonabile, io non accetto e quelle parole non interessano perché c'è da perdere, c'è tanto da perdere, perché in ogni partita c'è da perdere e c'è da vincere. Se ci sono nostre chance, 1%, 5%, 10% ci sono e andiamo a provare a fare un scherzetto, come posso dire. Sì, lo scherzetto, sì, certo. E così vediamo riusciremo o no perché sappiamo che giochiamo contro la squadra fatta per vincere tutto. A prescindere che il futuro sia con o senza Repeja, il coach croato indica una strada precisa per il salto di qualità del progetto pesarese. Secondo me ci sono due cose stra-importante, stra-importante per avere un progetto riconosciuto o progetto che ti permette migliorare con stesso budget, stessa altessa budget. Prima cosa sono strutture che mi permetto di dire, per questo sono arrivato stasera qua, per dare un messaggio stra-importante a questa città. Se vogliamo avere giocatori che vengono e fanno miglioramenti e progressi importanti per poter valorizzare ognuno, sai, perché tantissimi procuratori, tantissimi giocatori voglio venire qua, vogliono venire qua, ma senza strutture adeguate. Noi siamo un giorno a Vitrofrigo Nord, oggi siamo stati cialetta, cialetta come si chiama? Sì, cialetta, non è una casa, no? Una casa che si chiama di... I nomadi! Come nomadi e così non va bene, così non va bene. Noi dobbiamo avere strutture per lavorare come si deve lavorare e là c'è un enorme spazio per fare progressi. Perché prendendo... se c'è questa possibilità io prendo due giocatori giovani, tra i giocatori giovani, facciamo lavorare come si deve lavorare con loro, aumentando il loro valore, si aumenta il valore di squadra e sicuro la squadra diventa molto più forte. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, avere continuità di budget. Non parlo altezza di budget, continuità di budget, perché tutti i nostri consorziati sono, o il nostro sponsor principale, sono persone strasserie e stanno facendo, in questi periodi molto molto difficili per lavorare, stanno facendo ottimo lavoro. E la mia domanda è loro, che cosa succederebbe se loro non sanno quanto il loro budget sarebbe prossimo anno? Noi sappiamo solo per un anno, non sappiamo per un anno dopo. Bisogna programmare. Così è difficile programmare. Certo, certo. Ci sono due cose, per poter avere una programmazione più lunga, per poter firmare un giocatore quando si vede che merita stare di più di un anno. Perché? Firmando i giocatori un anno, se fa bene, va via, lo prende qualcuno. Che gli dà più soldi. Se fa male, lo mandiamo noi. Voglio dire, si deve cominciare da zero. Queste sono due cose, secondo me, principali. Non altezza di budget, sicuro che budget è importante. Ma queste cose sono principali se vogliamo fare progressi importanti in questa società, in questa città. Si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente, a cominciare da quelli di questo venerdì sera. Per chi ci segue dopo la nostra prima edizione del Tg delle 19.40, alle 20.14, vi trasmetteremo il progetto Craft Surfing di CNA. Arte, creatività e saperi si incontrano all'interno della bottega ospitale di Olivia Monteforte. Approfondimento dunque alle 20.10. A seguire alle 21.20 un nuovo forma dedicato alla sanità che Rossini TV realizza con Biolab, laboratorio che ha diverse sedi nella nostra provincia e che vi terrà compagnia per cinque puntate. Ogni venerdì alle 21.20, prima puntata dedicata alla prevenzione sanitaria. A seguire alle 22.00 potrete rivedere in replica la puntata di Amministrando andata in onda mercoledì 10 maggio dedicata a Palmi Rucchielli, sindaco di Vallefoglia. Amministrando, lo ricordiamo, va in onda tutti i mercoledì alle 21.20 in prima edizione. E poi ci sono le repliche, come detto anche questa sera alle 22.00, ma anche sabato, cioè domani alle 12.00, domenica alle 19.30 e lunedì alle 15.30. E poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con il consueto appuntamento di Buongiorno Rossini, rassegna stampa del sabato, che per l'occasione sarà condotta dal nostro Antonio Astuti. E poi tutte le notizie di Rossini News di questa settimana potrete anche riepilogarle in Rossini News Week un appuntamento del sabato e della domenica per fare mente locale su quanto successo nella settimana appena trascorsa. Rossini News Week va in onda domani alle 19.30 e domenica alle 6.30, 12.30 e 22.00. E si conclude qui questa edizione di Rossini News e questa settimana dell'informazione del telegiornale e del canale 80. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi. Grazie a tutti.